Ragazzi, alcune volte arriva un momento nella vita dove o si fa una cosa o si fa l'altra e quindi oggi sono qui per esporvi il programma di maggio che avrà Nerd Show MoVita essendo che maggio è uno dei mesi scolastici più difficili per ogni studente del mondo ed effettivamente tre video alla settimana più due video shorts e degli speciali al weekend non possono uscire cioè praticamente è un video quasi ogni giorno quindi adesso vi elencherò un po' cosa succederà in questo mese e poi nel caso vi prolungherò anche un attimo per i video estivi che anche quello lì sono tre mesi abbastanza di sfogo quasi nessuno sta sulla piattaforma e quindi uscirà tipo un video alla settimana più qualche video shorts come fatto l'anno scorso quindi iniziamo allora per il mese di maggio avevo pensato di far uscire solo due video cioè uno dei miei e uno di quelli di Gabriele i video shorts usciranno un po' random anche lì ma effettivamente fare solo due video alla settimana in primo è se secondo me è anche un numero giusto in secondo caso secondo me va ad alleggerire la questione scuola, recuperi eccetera ammettiamo sia io che Gabri che purtroppo oggi non ha potuto registrare con me e anche Gabriele che non state vedendo già da un po' che effettivamente ci dovremmo impegnare un po' di più a scuola non che siamo i peggiori della classe eccetera però comunque siamo alle superiori è il primo anno si cerca di dare il massimo eccetera però non vi voglio prolungare su questa questione perché non ve ne fregherà niente usciranno quindi due video alla settimana per un totale di quattro settimane se non erro già da questa si può dire usciranno non dico pochi video però contenuti cioè video contenuti in realtà dei video per maggio ce li ho già pronti cioè non li sono già registrati proprio perché sapevo che sarebbe successa questa cosa e quindi per fortuna state tranquilli perché i video non è che li devo fare però ce li ho già fatti li devo solo editare e niente ragazzi questo era il video informazioni condividete il video con tutti i vostri amici parenti zii, cugini, cani e gatti che se nel caso sono iscritti al canale possono sapere degli aggiornamenti e niente vi dico solo che per questa estate aspettano grandi cose al canale e in generale a tutti i componenti di Nerd Show Movida quindi io vi saluto e vi auguro un buon martedì anche se io sto registrando di lunedì quindi auguri però auguri era mi sto confondendo ciao ragazzi